Non vorrei proprio scappare da qua, ma mi sa che il tempo a disposizione l'è ormai passato. Viene anche a qua regole da osservar, che i tempi previsti li è meglio rispettar, se no altro stasera o fa l'ultimo gire, e mi ne è dritto che a serpa, teane e sorfetti. Mi ne è male pensare a tutte le bellezze della nostra frazione, al brolo, la villa, i coi e il nostro cayeron. Andi a vederlo prima di morire, un gran bel poste la tiona, da dove si rimbrumir, con qualche bella tosatela ben disposta, o come chi dice meglio, la sopposta. E poi, su per le piai e fa una camminata, e con senso in cima rimirare la barata. Al binocchio ti puoi usare, tu ti puoi guardare, così le frazioni confinati ti arriva a controllare. Andi a visitare Noalle e Villanova, col sol, la neve, ma anche con la piova. Ma se, la fa nì e in lateria, all'ombretta col formai, che bello che salìa. Ma stavolta, mi sa che quella buona, non può se più far niente, darò in buona. spero di non fare un gran po' io, che poi se la metta fin solo l'ombra. spero. Tasi, che ho saputo qualcosa di scritto, perchè in quel che l'estate non vede scritto. Io l'ho letto qua in piazza alta voce, davanti a uomini, frecci, femmine e cose. Ricordatevi però questa mia storia, non solo che per ridere, ma per farne memoria. fare un'intera spazio alle nuove generazioni, ma oggi altri se llega al rispetto e le tradizioni. Non deve pensare nel tutto normale alla fine, al po' del fatto che ha spazio per me, le comete i campi stasdaiò, se ingruma, se bruza e se fa fumerò.